Dunque Pescara evanescente, sotto ritmo e ancora sconfitto sul campo della Carrarese arriva il terzo K.O. di fila, quarto nelle ultime sei gare. Conclusioni da fuori, in avvio un palo colpito da Aloy, ma i Biancazzurri non danno mai l'impressione di essere realmente pericolosi. In sintesi Pescara fumoso, evanescente contro una squadra, appunto la Carrarese esperta, fisica, strutturata anche se non trascendentale. Dopo il vantaggio firmato da Panico, Tugnob e compagni ci provano, ma senza ritmo, imprescindibile, per stanare un avversario che col passare dei minuti si chiude a Riccio, affidandosi il contropiede. Sul piano del gioco passo indietro evidente, nello sviluppo offensivo la palla non scorre veloce, soprattutto manca la verticalità della manovra. E qui bisogna parlare del centrocampo. Zevan non è ancora riuscito a trovare una quadra, troppi però gli esperimenti. Anche ieri due cambi, Aloy e De Marco, rispetto alla mediana schierata con la Re Canatese. Inizialmente in panchina squizzato, non un play di ruolo, ma in crescita è comunque l'unico in grado di verticalizzare. Di certo non può essere Aloy più utile da mezzala. In sintesi una buona rosa sì, ma come sommessamente sostenuto da tempo, non da primo posto e senza alcun dubbio, meno forte e competitiva rispetto a quella dello scorso anno. È chiaro che al netto di queste considerazioni oggi la squadra attraversa un periodo no, ma può fare sicuramente meglio. Non regge il parallelo con la stagione 2011-12. Quello resta un campionato da sogno. Il paragone è ardito, oggettivamente improponibile. Un altro dato da rimarcare. In tre delle ultime sei gare il Pescara ha smarrito la via del gol. È accaduto contro Pineto, Vis, Pesaro e appunto Carrarese. Sarebbe tutto normale se in panchina non ci fosse Zeman. Insomma, il momento rimane complicato. Appena 4 punti e ben 4 K.O. nelle ultime sei partite. Urge rialzare la testa.